Una delle domande più comune che mi viene fatta e questo da sempre Simo come posso replicare una color del film Pincopallino? Ho preso spunto da questa domanda che nello specifico si rifaceva proprio al colore quel profilo colore che ho presentato nel video Sony una bestia di profilo colore video che tra l'altro vi lascio in descrizione qui su questo ulteriore video. Nella domanda mi si chiede se è possibile a partire dal colore Cine2, dal profilo colore Cine2 profilo appunto che ho suggerito in quel video blog di cui sopra fare una color simile a quello che è un documentario che nello specifico aveva scelto la persona che mi ha fatto la domanda quindi lui ha scelto un film ha visto questo documentario dice Simo si può fare la color identica partendo dal profilo colore che tu hai fatto vedere su quel video? Ebbene chiaramente tramite messaggio ho subito risposto a chi mi ha posto questa domanda ma successivamente mi sono detto se questa domanda non fosse stata un interessante motivo per parlarvi di questo argomento che come vi dicevo viene spesso fatta l'argomento è molto in voga tra tutti i videomaker che almeno quelli che mi seguono ora in prima battuta vi devo dare una tristissima risposta che chiaramente poi durante questo video vi motiverò ma in tutti i casi e in linea di massima non è possibile ottenere facilmente il risultato simile ad un look scelto ottenuto in un film semplicemente applicando la lutte specifica ebbene sì è triste ma non esiste un approccio standard o peggio una lutte o meglio una lutte che come per magia sia applicata ci riporta in modo speculare a quello che è il risultato del film da noi scelto i motivi possono essere semplici ma complessi allo stesso momento e cercherò di darvi qualche elemento di riflessione allo scopo di farvi capire perché non può funzionare questo approccio semplicistico allora come primissima cosa va detto che la lutte colore viene studiata specificatamente per l'elaborazione dei colori a partire da quello che è il file girato in log un file logaritmico anche detto appunto log immagino che tutti sappiamo cosa sia e vi lascio un altro dei miei video in descrizione sull'argomento questo file osserva un metodo di registrazione delle informazioni di gamma dinamica e di colore che sono diverse da quelle di un file con una curva invece lineare e queste informazioni possono essere convertite in post produzione facendo appunto una color un intervento di color cioè intervenendo ed ottimizzando quello che è la curva a colore restituendo tutte quelle informazioni contenute nascoste nella ripresa fatta appunto dalla camera questo processo di riadattamento chiamato appunto color correction è diverso chiaramente da quello che si applica quando si gira con un profilo lineare o non logaritmico per questo motivo quando applichiamo una LUT su un file lineare otteniamo un risultato esasperato contrasti sovraesposti e soprattutto una saturazione esagerata il tutto chiaramente non è interessante in termini finali ed è errato come se non bastasse c'è da dire che la LUT viene creata per una specifica marca di macchina e uno specifico profilo colore o log come ad esempio il log 2 o log 3 ne esistono appunto diversi ora per farvi capire questo concetto di certo un profilo log 2 di Sony non è corrispondente ad un profilo log di una Panasonic o di una Fuji è facilmente comprovabile che applicando una LUT X ad un file log 2 girato però con Sony può dare risultati completamente diversi se applicato su un file log di Panasonic o di Fuji eppure entrambe usano la stessa LUT entrambe sono stati girati con log 2 e quindi perché questo fatto la risposta sta nel modo in cui le macchine acquisiscono quelle che sono le informazioni colori ogni marca e ogni modello infatti ha un proprio modo di leggere e restituire i colori questo è normale e per fortuna che sia che è così in questo modo ognuno sceglie il marchio che restituisce quelle informazioni colori secondo i suoi gusti e secondo lo standard qualitativo per la persona qui sul canale spesso si vedono persone che si battono di fatto per quella che è la marca del modello dal loro scelto e pensano che il loro è il meglio rispetto a quello dei concorrenti io sono sincero anche io credo assolutamente che un gusto è soggettivo e non posso negare che ad esempio apprezzo molto di più look black magic rispetto ad altri brand non solo se penso a quello che restituiva la 2k e mezzo di black magic o la precedente pocket quella piccolina con il suo look molto riconoscibile e molto cine ecco che non posso che confermare questa idea di massa sull'argomento che vede oltre che il brand anche il modello a fare la differenza finale proprio sul look insomma sono piccolezze ma sono cose importantissime per quello che è l'aspetto interiore e visivo per il videomaker se pensiamo un po quello che succede anche nel mondo delle auto o di qualsiasi altra cosa ad esempio chi preferisce una ford ad una toyota o viceversa ognuno avrà sempre il suo metro di giudizio sull'aspetto estetico e su questo credetemi non si può giudicare o discutere i gusti sono gusti e vanno rispettati ora non scendo però fuori da quello che il tema appunto che di questo video va da sé che se una macchina acquisisce in modo diverso anche la loot risponderà in modo diverso soprattutto perché le loot non fanno che accentuare le tonalità di colore di quella che è la clip diverso il colore diverso sarà il risultato del prodotto finito a parità di loot utilizzata e quindi come si può ottenere questo benedetto look simile al film pinko pallino se questo film è stato girato da una camera con sensore molto diverso dal nostro probabilmente seppur applicando la medesima loot la risposta è che non si può o meglio non si può se non molto lontanamente se a questo ci aggiungete che la vostra camera ha molte meno informazioni probabilmente di bit colore rispetto magari all'arri di turno utilizzata nel film beh capirete che praticamente è impossibile ottenere il risultato identico è invece abbastanza plausibile riuscire ad ottenere un look similare a quello che vedete fare da un altro videomaker se avete la sua stessa camera ad esempio voi avete la black magic lui è la black magic chiaramente se avete anche la stessa loot e chiaramente sto parlando di due persone che hanno girato in posti diversi con filmati quindi diversi però potete ottenere un risultato simile se ripeto avete la stessa camera e la stessa loot ora veniamo ad un aspetto un altro aspetto molto importante da considerare in materia appunto di allineamento colore e look film immaginate di girare una scena nella vostra camera da letto in casa vostra con una semplice luce ad esempio di incandescenza poi rispetto al vostro appartamento pensate invece ad un set con scene preparate da un DOP quindi direttore di fotografia produzioni da migliaia di euro spese in luci professionali magari luce diverse con temperature colore diverse potenze e peculiarità per accentuare zone dell'inquadratura differenti o per far risaltare alcune parti della scena beh capirete bene che la vostra registrazione a parità di loot e con una macchina oltretutto diversa ciò che dicevamo prima non potrà mai avvicinarsi a quella che è la ripresa fatta professionalmente anche se utilizzate la stessa loot e la loot adeguata per farvi capire ad esempio io ho delle loot che sono praticamente le loot utilizzate da per l'alexa nei film più importanti come ad esempio interstellar indiana jones matrix eccetera eccetera quando applico queste loot su un filmato girato con una sony ottengo un risultato x le stesse loot quando le applico alla black magic ottengono un altro risultato chiaramente se le applicassi ad un alexa invece avrei il risultato sicuramente più allineato al film in questione cioè quello magari dedicato a quella loot questo però dipende anche moltissimo dalle ambientazioni come vi dicevo le ambientazioni in cui giro se la scena la giro con la luce errata o in una condizione magari non esistente in quel film è certo che il risultato sarà completamente diverso rispetto a quello che vediamo sul film stesso quindi possiamo dedurre che la vostra comunione di turno il vostro matrimonio non potrà mai assomigliare in tutto e per tutto a interstellar o matrix dico questi due film perché hanno delle loot particolari che tutti ricordano ma quindi non possiamo proprio far nulla diciamo la domanda potrebbe sorgere spontanea allora sì qualche cosa la possiamo fare e vi do quelli che possono essere i miei consigli intanto come prima cosa bisogna lavorare il log solo questa modalità vi aiuta a raggiungere possibili post produzione di livello e più malleabili appunto in post produzione come seconda cosa dovrete caricare in macchina o sul monitor supplementare durante quelle che sono le fasi di ripresa la loot che utilizzerete poi in post produzione se ad esempio vorrete un look appunto alla matrix dovrete caricare fin da subito quella loot in macchina se la macchina non lo consente la caricherete su un monitor esterno questo vi aiuterà a vedere già come sarà la scena e a capire fin da subito come esporre il filmato ma soprattutto come impostare quella che è la temperatura colore e la tinta cioè quegli elementi vanno a influire sulla color sembra banale ma vi assicuro che questo piccolo già questo piccolo accorgimento vi farà fare la differenza e inoltre vi aiuterà a capire da subito se una lampada o un'angolazione di luce è giusta o meno per il look che volete ottenere sul film sul girato infine girate con una macchina con una gamma dinamica e soprattutto con una profondità di colore molto ampia questo potrà aiutare il computer il vostro computer a non sfondare quelli che sono i colori nel momento in cui gli stessi poi verranno cambiati esaltati in post produzione questi sono pochi suggerimenti che si rifanno a quella che la mia esperienza sul campo vi assicuro che vi aiuteranno di certo a ottenere quel tipo di risultato chiudo dicendovi che sono da abolire i profili colore standard cioè quelli già post prodotti come l'eterna di fuji o similari per il mondo panasonic vivid natural eccetera queste impostazioni vanno utilizzate se siete delle persone che vogliono un po la pappa pronta cioè se non volete fare la post produzione sul vostro computer per quanto riguarda al cine 2 cioè al profilo colore del video sony una bestia di profilo colore ecco che anche questo profilo cioè il cine 2 non si addice alla post produzione con lutte preimpostate diciamo che al contempo però vi permette di maneggiare e post produrre molto di più i colori ma a mano cioè non utilizzando delle lutte proprio perché le lutte sono pensate o l'hatte sono pensate appunto per i file logaritmici se non ricordo male comunque nel filmato vi mostro anche il modo in cui poter produrre quel tipo di profilo colore però ci tengo a ricordarvi che lo stesso non è adeguato se volete approcciare in modalità professionale nelle fasi di post produzione ultimo consiglio e chiaramente questo è il più sentito è quello che dovete studiare su come fare e saper fare una color professionale conoscere gli strumenti saper fare una color ad esempio non intaccando un incarnato sono cose fondamentali se si vuole fare la differenza rispetto a quella che può essere la correzione banale altrimenti si ottengono dei filmati mal post prodotti e a quel punto è meglio optare per un approccio semi pronto quindi laddove vi dovessero interessare questo tipo di argomentazione vi ricordo alcuni dei contenuti in tal senso allineati che potete trovare nei corsi di formazione dedicati sia a Final Cut Pro X che a DaVinci Resolve per entrambi i corsi vi lascio il link in descrizione io per il momento spero di non averti deluso troppo rispondendo di appunto che è difficile riuscire a trasformare un lavoro in un film hollywoodiano e quindi non mi rimane che salutarvi e attendervi al prossimo contenuto sul nostro canale piuttosto iscrivetevi